Stop alle domande di rimborso forfettadio. Sono infatti scaduti termini per le richieste di indennizzo all'80% per gli obbligazionisti subordinati e azzerati di Banca Etruria e degli altri tre istituti di credito andati in risoluzione con il decreto del 22 novembre 2015. Proseguono invece le liquidazioni delle pratiche. I rimborsi si stanno concretizzando lentamente come è stato dichiarato anche da Paterna del fondo di tutela dei depositi perché riescono a liquidarne circa 300 a settimana a fronte di un numero di istanze pervenuto che supera ampiamente le 14.000. Credo l'ultima dichiarazione di ieri di Paterna del fondo si sfora già di due mesi. Presumibilmente si sforerà anche di quattro per le ultime istanze. Chi è che però rimane fuori sia dai rimborsi che eventualmente anche dall'arbitrato? Sia dai rimborsi che dall'arbitrato rimangono fuori coloro che hanno acquistato presso altro intermediario. Ricordiamo che Banca Etruria è una società quotata in borsa quindi era possibile acquistare le obbligazioni Banca Etruria anche presso altre banche. Oppure chi ha acquistato online, cioè ha fatto trending online. Esclusi dai rimborsi anche i bondisti che non hanno acquistato in un rapporto negoziale diretto le obbligazioni ma le hanno ricevute in dono da un familiare. Secondo il loro primo regolamento emanato si la considerano una cessione intervivo se come tale loro la considerano esclusa. Noi contestiamo questa interpretazione, lo abbiamo già dichiarato più volte, faremo un tentativo e daremo battaglia sull'interpretazione del fondo che tenda ad escludere questi rimborsi. A proposito di battaglie, quando è uscita la notizia del Monte dei Paschi di Siena di come la banca sarebbe stata salvata e quindi anche i suoi obbligazionisti ecco Fede del Consumatori è scesa subito in campo. Sì, noi apprezziamo il salvataggio degli obbligazionisti di Monte Paschi perché finalmente vediamo applicato l'articolo 47 della Costituzione che tutela il risparmio. Non possiamo però non evidenziare una forte discriminante nei confronti di tutti gli obbligazionisti delle quattro banche. Ecco rispetto alle inchieste appunto di banca rotta, fraudolenta, insomma quelle più pesanti per le quali ancora dobbiamo sapere se gli ex dirigenti saranno insomma rinviati a giudizio, se ci sarà processo e quant'altro. Fede del Consumatori che cosa si aspetta e soprattutto insomma voi avete già dichiarato che vi sareste costituiti parte civile. Sì, noi ci costituiremo sia noi parte civile, sia verificheremo la possibilità che tutti gli altri obbligazionisti e gli azionisti soprattutto, perché questa sarà l'occasione per gli azionisti che ad oggi sono esclusi da qualsiasi forma di rimborso per tentare appunto di avere un intennizzo. Grazie. Grazie. Grazie.